Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse Fate il computo dei figli di Cheat tra i figli di Levi, secondo le loro famiglie e secondo i loro casati paterni, dai trent'anni fino ai cinquant'anni, di quanti fanno parte di una schiera prestando servizio nella tenda del convegno. Questo è il servizio dei figli di Cheat nella tenda del convegno. È cosa santissima. Quando si leveranno le tende verranno Aronne e i suoi figli, caleranno il velo della cortina e copriranno con esso l'arca della testimonianza. Poi porranno sull'arca una coperta di pelli di tasso. Vi stenderanno sopra un drappo tutto di porpora viola e metteranno a posto le stanghe. Poi stenderanno un drappo di porpora viola sulla tavola dell'offerta e vi metteranno sopra i piatti, le coppe, le anfore, le tazze per le libagioni. Sopra vi sarà il pane perenne. Su queste cose stenderanno un drappo scarlatto e lo copriranno con una coperta di pelli di tasso e collocheranno le stanghe. Prenderanno un drappo di porpora viola e copriranno il candelabro per l'illuminazione, le sue lampade, i suoi smoccolatoi, i suoi portacenere e tutti i vasi per l'olio di cui si servono. Metteranno il candelabro con tutti i suoi accessori in una coperta di pelli di tasso e metteranno sopra la portantina. Sopra l'altare d'oro stenderanno un drappo di porpora viola e lo compriranno con una coperta di pelli di tasso e collocheranno le stanghe. Prenderanno tutti gli arredi che si usano per il servizio del santuario, li metteranno in un drappo di porpora viola, li avvolgeranno in una coperta di pelli di tasso e li metteranno sopra la portantina. Toglieranno il grasso bruciato dall'altare e stenderanno su di esso un drappo scarlatto. Vi metteranno sopra tutti gli arredi di cui si servono, i braceri, le forcelle, le palette, i vasi per l'aspersione, tutti gli accessori dell'altare e vi stenderanno sopra una coperta di pelli di tasso e collocheranno le stanghe. Quando Aron e i suoi figli avranno finito di coprire il santuario e tutti gli arredi del santuario, al momento di levare le tende, i figli di Keat verranno per trasportarlo. Ma non toccheranno il santuario, perché non muoiano. Questo è l'incarico dei figli di Keat nella tenda del convegno. Eleazzaro, figlio del sacerdote Aronne, avrà la sorveglianza dell'olio per l'illuminazione, dell'incenso aromatico, dell'offerta perenne e dell'olio dell'unzione e la sorveglianza di tutta la dimora e di quanto contiene, sia del santuario sia dei suoi arredi. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse Non provocate l'eliminazione della tribù delle famiglie dei Keatiti di mezzo ai Leviti, ma fate questo per loro, perché vivano e non muoiano nell'accostarsi al Santo dei Santi. Aronne e i suoi figli vengano e assegnino ciascuno di loro al proprio servizio e al proprio incarico. Non entrino essi a guardare neanche per un istante il santuario, perché morirebbero. Il Signore parlò a Mosè e disse Si faccia il computo anche dei figli di Gerson, secondo i loro casati paterni, secondo le loro famiglie. Dai trent'anni fino ai cinquant'anni licensirai, quanti fanno parte di una schiera, prestando servizio nella tenda del convegno. Questo è il servizio delle famiglie e dei Gersoniti, quello che dovranno fare e quello che dovranno portare. Essi porteranno i teli della dimora e la tenda del convegno, la sua copertura, la copertura di pelli di tasso che vi è sopra e la cortina all'ingresso della tenda del convegno. I tendaggi del recinto, la cortina all'ingresso del recinto, che è attorno alla dimora e all'altare, le loro corde e tutti gli arredi per il loro servizio e tutto quanto è predisposto perché prestino servizio. Tutto il servizio dei Gersoniti sarà agli ordini di Aronne e dei suoi figli, per quanto dovranno portare e per quanto dovranno fare, e affiderete loro in custodia quanto dovranno portare. Tale è il servizio delle famiglie dei figli dei Gersoniti nella tenda del convegno. Il loro servizio dipenderà dai Tamar, figlio del sacerdote Aronne. Censierai i figli di Merari, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dai trent'anni fino ai cinquant'anni licensirai, quanti fanno parte di una schiera prestando servizio nella tenda del convegno. Questo è quanto è affidato alla loro custodia e quello che dovranno trasportare come loro servizio nella tenda del convegno. Le assi della dimora, le sue stanghe, le sue colonne, le sue basi, le colonne del recinto tutto intorno, le loro basi, i loro picchetti, le loro corde, tutti i loro arredi e tutto il loro impianto. Elencherete per nome gli oggetti affidati alla loro custodia e che essi dovranno trasportare. Tale è il servizio delle famiglie dei figli di Merari, secondo tutto il loro servizio nella tenda del convegno, sotto gli ordini di Tamar, figlio del sacerdote Aronne. Mosè, Aronne e i principi della comunità censirono i figli dei Cheatiti, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dai trent'anni fino ai cinquant'anni, quanti facevano parte di una schiera, prestando servizio nella tenda del convegno. I loro censiti, secondo le loro famiglie, furono duemila settecentocinquanta. Questi appartengono alle famiglie dei Cheatiti, di cui si fece il censimento. Quanti prestavano servizio nella tenda del convegno, che Mosè e Aronne censirono secondo l'ordine che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè. I censiti dei figli di Gerson, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dai trent'anni fino ai cinquant'anni, quanti facevano parte di una schiera, prestando servizio nella tenda del convegno, quelli di cui si fece il censimento, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, furono duemila seicentotrenta. Questi appartengono alle famiglie dei figli di Gerson, di cui si fece il censimento, quanti prestavano servizio nella tenda del convegno, che Mosè e Aronne censirono secondo l'ordine del Signore. I censiti delle famiglie dei figli di Merari, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dai trent'anni fino ai cinquant'anni, quanti facevano parte di una schiera, prestando servizio nella tenda del convegno, quelli di cui si fece il censimento, secondo le loro famiglie, furono tremila duecento. Questi appartengono alle famiglie dei figli di Merari, che Mosè e Aronne censirono secondo l'ordine che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè. Tutti i censiti che Mosè, Aronne e i principi di Israele censirono presso i Leviti, secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, dai trent'anni fino ai cinquant'anni, quanti prestavano servizio di lavoro e servizio di trasporto nella tenda del convegno, tutti quelli di cui si fece il censimento, furono ottomila cinquecento ottanta. Per ordine del Signore li censirono per mezzo di Mosè uno per uno, assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e ciò che doveva trasportare. Il loro censimento fu quello che il Signore aveva ordinato a Mosè.